Le istituzioni devono dare l'esempio, dimostrare l'interesse per riuscire anche ad attrarre investimenti. Va in questa direzione l'accordo siglato tra Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per la riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste. Roberto Di Piazza, Sindaco della città, Zeno D'Agostino, Presidente del Porto di Trieste e Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione, insieme per sviluppare le attività portuali e gli interessi strategici in un'area comunale dove insista il Porto Vecchio. La firma di un documento che arriva al termine di un confronto iniziato nel 2015. Grazie all'accordo e grazie al consorzio che verrà creato si riesce finalmente non soltanto a trarre investimenti ma anche creare tutta quella struttura affinché si possa promuovere l'investimento in Porto Vecchio, far conoscere Porto Vecchio e attirare ovviamente l'interesse, penso globale, che quest'area merita e sicuramente saprà essere in grado di attrarla. L'accordo sancisce anche la nascita di un consorzio denominato Ursus che diventa l'entità giuridica di riferimento per la strategia e la pianificazione dello sviluppo dell'area per la quale il Presidente del Porto auspica ora un deciso cambio di passo. Il piano permette la rigenerazione urbana di una vasta area del capoluogo giuliano. Da un lato ci sono le zone sdemanializzate assegnate al patrimonio del comune, dall'altro le banchine, la via termina, la fascia costiera, che rimangono del demanio pubblico e che saranno gestite dall'autorità portuale. Quali vantaggi per la Regione Friuli-Venezia-Giulia? Il progetto del Lab regionale in Portovecchio permette da una parte un risparmio importante nel medio periodo per la Regione e anche un efficientamento dei servizi stessi perché riesce a mettere in contatto varie strutture che oggi non sono insieme. Ottimizza anche ovviamente la spesa per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma soprattutto contribuisce a iniziare un'importante opera di qualificazione di un'area che se non è il pubblico il primo a scommetterci e crederci non possiamo pensare che sia il privato, pensiamo sia un'area di grande interesse, di grande pregio, che può essere molto attrattiva, oltretutto molto grande e vogliamo far vedere che il pubblico è il primo a mettere piede e ad andare avanti alla riqualificazione di quest'area. L'accordo prevede anche una variante al piano regolatore del comune che il Consiglio Comunale dovrebbe approvare entro un mese.